musica 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 asulla 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 sui mani musica musica ieri era una giornata di merda però inizierà bene quando? 10 mattina era una giornata di merda però inizierà bene perchè? perchè perchè non sono arrivato alla stazione dubbito rimarciato due turisti dubbito? dubbito rimarciato due turisti in che senso qua rimarciato due turisti? tipo stavano, ero un ragazzo no? tu sei il terreno di qualche settimana è di Milano mi ha detto scusa ma per la stazione perchè la stazione ti aveva fatto che prima c'era un ponte io ti portavo la stazione ma il ponte ce l'è caduto e mi ha detto scusa ma il ponte per la stazione io ho fatto no quello è caduto vieni con me ti porto via la stazione per cui io la devo andare ma va bene mi ha detto scusa ma per Napoli qual è finato eh io ho fatto esempio è quello non è questo però io devo andare a Napoli lui ha fatto ah lui vuoi fare una cosa dai un occhio alle ragazze mentre va in Napoli perché proprio loro devono andare alla stazione centrale io ho fatto ok non mi tiro niente però accompagnale che ti devo dire vabbè 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 tranquillo perdono ma per me non mi riesco a sederci mi vergogna non mi ha detto di fare una cosa no non mi ha detto ma non mi è vera ma mi ha detto mi fa che mi fa io ho detto qua mi dice che lei fa l'attrice, la prossima per la fotografia, fa la recitazione, si fa fotografia e stacogliosi, no? insomma mi ha fatto, ma scusate, ma tu quanti anni hai, lei? eh io ho dato un po' il danno, ah! oppure tu? oppure io ho dato un po' il danno? ehi, è giusto dove cazzo avesse questo? atterrato dov'è? qua facciamo una tante? ecco lo geno, lo vedo, lo vedo nooo vediamo, c'è altra gente ah che? che si, ho sentito i passi, comunque qui qua c'è giro e splash no, mi serve il BNR se ci sa si sa ma... andiamo a far mezzo vediamo a non c'è il BNR qua no che cosa per fare la mia gente, i grandi problemi vai, gira con una... usiamo il BNR aspettate, ho un Cildini qua prima, come ho un Cildini? no, ho un Cildini, te l'ho lasciato io vieni dopo ovunque, sono un C colpo di cerchino sempre in caso di avesse insieme, c'è anche uno col PR se ne ho 30 precisi, non c'è ancora un CIL io ho 149 vabbè adesso dopo quando ne trovi qualcun'altro se ne puoi dare qualcuno giusto per giusto per arrangiare perché stavo 30 precisi e poi quello è a carica anzi no, no, che dici? il nonno quello è a carica non l'ha stato quello del nonno bucura perché io quello è la bianca a carica anzi perché io quello verde non c'è ancora un CIL ho sbagliato, ho sbagliato non mi ricordo tutto non so se ho fatto qua ho detto muro che l'ha uscito questo comunque passiamo anche a rimanere qua vabbè comunque si, sarà sempre che sta ancora qua vabbè comunque no, per l'altro è tutto lei alla fine gli ho fatto senti, non vuoi dare il tuo account senti in pista che era in modo così e va bene, non c'è problema io cosa vabbè non va vedendo la proposta un pista che era in modo di fa e si riescono a fare però dai se senti fatti tu tanto che ti puro lo zrolli dai ma va bene dai dai adesso questa l'evo non c'è scada eh intrascio no lei lascia la biciccia a Napoli per fare i billetti e le dico buon viaggio Если bien eh ho detto stata fatta attenzione per qualcosa che sentiamo alz vabbè dai comunque arrivo in ufficio apro la camera di te ora come mamma mia ho usato il tavolo senza usare le mani mamma mia devi fare il favore a me gli occhi mi devo preoccupare cosa ti faccio fare no è più che altro sai di che è così sapere molto giusto mamma mia è tanta roba l'altra l'altra pure era bella però non so farlo di nuovo l'altra diventiamo solo c'è di coca diventiamo solo c'è di coca in che senso cazzo di ragazzata che vuoi fare con mia sorella no 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 niente niente ho sbagliato ho sbagliato sbagliato sei tu per fare un'altra volta sotto come si ah boh comunque fa ah boh lei mi fa guardandomi in modo sensuale mi ha fatto qualche volta dovessi salire a milano l'altra io le ho fatto questa posta da 50 la porto io non è vero non le ho detto così ho detto ah c'hai detto questa posta da 50 la porto io ok ecco tipo le ho fatto ah boh dai quando le ho esiste ah boh qualche volta le vengo a trovare poi ho fatto ah boh per il momento mi dovesse limitare questo e me l'altra volta la persona che si è del mio ospite lei ah vabbè dai dai allora la prossima volta la prossima volta veniamo da te le ho preso dietro e poi una volta arrivato all'ufficio ho messo sulla posta questa una volta arrivato all'ufficio la si deve fermi mi ha fatto quella no no tipo ho messo sulla posta poi mi mando il messaggio le mando il messaggio le dico senti mi ha fatto piacere che conosceci buona compagnia spero che ci sia giù la volta a posto la prossima volta sarete mio ospite a presto lei mi fa ciao grazie mille siamo state benissimo poi ci siamo arrivati a casa siamo in salve a presto se ne è salve non hai capito quello che me ne avevamo non voleva che ci cedevo una cosa bello è bello sai che ho fatto ma scusamo voi lei trenacero ce l'avate perché ora ce l'avete bene ce l'abbiamo alle dici e mezzo e noi mezzo e mezzo ci arrivavamo a napoli in che senso gli studi evidentemente stavano per usavo uno di quelli la forse erano dei primi forse oppure non sapevano che stavano alle dieci e mezza alle dieci e mezza il treno sono andato esatto no no lo sapevano però tipo loro erano accampati da una parte in cerchio di una sbultina pacco evidentemente no no tipo loro mi hanno detto che erano accampate da un ragazzo in realtà loro ce ne dovevano già andare ieri peraltro ieri in questo caso mi ha fatto noi siamo stati accampati a questo ragazzo siamo stati in vacanza qua per cominciare la barcia ok poi lei mi ha fatto noi abbiamo perso abbiamo perso il traghetto quindi siamo rimasti un altro giorno abbiamo dormito sulla barcia ottimo perciò apriamo il treno oggi bello per due c'è infatti bella per me ma quella porca porca questa parola ma era porca porca questa parola si si assai da vicino non sembrava perché forse l'ho vista appena sveglia e c'era così però un po' mamma mia toccata e fatta mamma mia è proprio la prima del mondo mmm forza pacco cacciacisto instagram ma instagram non te lo dico subito subito non te lo dico subito subito non te lo dico subito bacca e non me lo dico apro con le spiag e c'ho 6 cilvini si comunque si diminue molto le cure si molto 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 si diminue molto 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 cazzo 109 colpi riservano colpi di qualcosa per caso 314, pompa 37, 380... tu come stai messo? 384 e 360. Aspetta, non ho capito, 300 colpi di pompa? No no, 300 colpi di assalto, 84 colpi di pompa... Si, si mette una cinquantina di colpi di assalto, pure di meno. In modo da dire, aspetta, andiamo un attimo a fare. Che significa? Ho preso l'XP, come? Che significa? No, io pensavo che mi stai da i colpi qua dentro, quindi... No, no, ho preso l'XP, vieni qua, vieni qua. Che ti dovevo dare? Ah, i colpi. Una cinquantina di colpi a R, una cinquantina manca. E' un gemo. No, come si, non sto a piegare dagli XP. Perfetto. Così arrivo a livello 9, easy proprio. A te manca tanto quel livello 9? A me manca poco. Non ho preso a livello 9, già lo sono. No, non mi dici a livello 8. Gemma, no, 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 non salite, Gemma, non salite, postati. No, niente. Ah, non si può, non esplode quel lato. Però va, 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 funziona così, va. No, è lato, non esplode questo, è vero. Che cazzate. Stanno rebuttando. Una foresta. Che cazzate. Che cazzate. Ok. Paco. Sì. Sto pensando a questo, perché tu devi sentire questo dive, sentici, 10 con questa, non? Buona cosa, non mi possoaby. Menoviate, logo l'ha mandato in qualche messaggio. Ma sappiamo che l'ho mandato, l'ho visualizzato, non mi ha risposto. No, per Tranquil, ne ho soccarli. Sì, andiamo andiamo. Anzi, andiamo andiamo. Come cazzo? Perché è morto? Mi ho cauto tutto il pioce, l'ho visto poi sì. Ho visto tutte le trapiche al mini, che trova? Ci sta qualcosa per me? Guarda a botto. Vediamo se c'è qualcuno con... Una funeria. Qui sì. 49, 33, 33, distrutto. Vediamo le ratte. Il braccio sta allargando. Che cazzo è? Oh, che cazzo! Tutto pure? Il combat, gg. Mi darei letta questa, se ti piace. Certo che mi piace. Sì, Paco, ho una sceldina se vuoi. E dammelo, Gemma, dai. Paco, vediamo se ti sai sapere questa roba tu. O ti trovi che la sei usata? No, non la so usare, però... Non la so usare. Non la so usare. Non la so usare per il momento. Ci stanno appuntando. Non è vero, Gemma, levami in più. 105? Gemma, levami in più davanti. Non c'è un cazzo. Che cecchina, l'ho fatto a quello che l'ho fatto sognare. Ma qua mi faccio vedere. Da che hai fatto? No, l'ho messa una trappola. No, non ho quel pesato. Non ho quel pesato. Certo, io però... Non ho quel pesato, se no ho 600 se vuoi. No, 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 no. Non ne avevo carichi. Sto bagliato. 105 è quello, mamma, mamma. Paco, non pensavo a pescare, diamo un zitto. No, no, ma infatti non voglio pescare. Stavo cercando a quello, mi stavo andando in conto. Eh sì sì, se andavi qua sotto, andavi sicuro. C'ho il combat, però hanno detto che le potenziare proprio tanto hanno le potenziate. Sì, l'hanno le potenziare assai. C'abbiamo qua davanti, che lo visti. Non c'è spuglio qua a mezzo. Ecco le ho viste qui. Chi si è giù al quello? Da centro da sinistra. Un pacco di gente da sinistra che è là. Pago con gente è là pure. Fa una pusciata di sinistra pure. Pago sia una campanina, una jump vandarcene. Si. Pago, eh, gemma, le gemme non si sto qui. Ah, giusto. Grazie Pago per il muro in faccia, grazie mille. Non preoccupare. Non dovevi break. Grazie Pago per il tuo muro in bocca, di nuovo. Grazie mille. 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 Eh vabbè, ho 40 di vita che devo fare. Ho messo due volte il muro in faccia. Ho messo due volte il muro in faccia. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Grazie.